Fa vedere di che pasta è fatto, quattro punti per lui Clark c'è una corsia centrale, va fino in fondo In difficoltà Kiacic Venezia invece che continua a giocare di fioretto Con i risultati che stiamo vedendo Intanto finalmente una penetrazione di Clark Melonetta, Kiki Clark Buono il primo S.75 Poteva dare il più uno a Venezia Buono il secondo